Benvenuto a Trento Udian, questa è la tua prima stagione lontano dalla Germania, subito con un club importante come Trentino Volley. Come ti stai trovando a Trento e con i tuoi compagni di Trentino Volley? Tutto buono, la città è bellissima e anche la squadra, tutti i giovani e tutti i miei colleghi sono simpatici e anche le due partite abbiamo fatto, è molto buono. Hai un obiettivo personale per questa tua prima stagione? Un obiettivo per questa stagione qui è a livello mio, sì, anche lavoro con Angelo e fare un passo davanti alla mia posizione. Hai un modello come giocatore che ha già vestito la maglia di Trentino Volley nel tuo ruolo, Eugenia Grabennikov? Sì, lui è un modello in questa posizione, lui è molto forte e ho visto lui giocare qui e provo a fare qualcosa, sì. Benvenuto e buono campionato. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.